Cross in mezzo, qualità, qualità, angolo, la sinistra, qualità, angolo, tutti giocatori in area, cross in mezzo, di testa, mamma mia, gol, gol dello Spezia, gol dello Spezia, vai Lorenzo, una palla ribattuta, gol, vai Lorenzo, il nome è impossibile a pronunciare, Lorenzo, non importa chi è segnato, adesso lo capiremo, e basta, sono di Miccoli, vai Lorenzo, sfoga, che palo che aveva preso, mamma mia, Barriera, sopra la barriera, gol, gol del doppio, calcio battuto benissimo, felicità per Miccoli, felicità per Miccoli, che sbandiera, mamma mia, mamma mia, che batossa ragazzi, Imprendibile, totalmente imprendibile, non ha potuto fare, qua non puoi fare niente, qua non puoi fare niente, no, 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 qua nessuno poteva fare niente, e in effetti lo dicevate quanto fosse no, perché Tiziano dice sì sì hai sradicato, hai fatto bene a fermarlo, però la punizione è da zona interessante, insomma, che palla ragazzi, ragazzi, il proposito non la tira sopra la testa dei giocatori del Milan, ha una parola...